Ciao ragazzi e ragazzi, benvenuti in un nuovo video, oggi voglio parlarvi dei preferiti del mese di marzo siamo ai primi di aprile e finalmente riesco a girarvi questo video è un po' di mesi che salto il video dei preferiti perché o succede sempre qualcosa e quindi io inizio i video e puntualmente la batteria si scarica, la memoria si riempie mi carica i video a metà, non si sente, non si vede, non ho tempo per girarli quindi succede di tutto, però se qualcuno mi ha chiesto di rincominciare a girare questi video perché gli piace molto la tipologia e quindi eccomi di nuovo qua vi mostro un po' di cose, alcune sono di febbraio, alcune sono di marzo però ci tenevo a mostrarvele in modo tale da ricominciare questa rubrica e chissà che vada tutto bene, speriamo allora, il primo prodotto preferito di cui voglio parlare è questa cosa qua che è un'agenda, è un'agenda molto vecchia, nel senso che è un'agenda che utilizzava mia sorella in adolescenza che io ho recuperato e ho riempito con dei refill nuovi quindi mi piace molto perché è un'agenda che ha comunque una storia mi piace molto riciclare le cose, darle nuova vita, utilizzarle, non lasciarle nei cassetti le cose ritornano e quindi eccoci qua appunto dal mese di marzo ho avuto un'agenda già nei mesi precedenti mi sono occupata di cercare l'agenda ideale la tipologia di agenda che poteva piacermi ne ho spulciate un po' di tipologie poi alla fine sono giunta al fatto che mi piaceva quella con i fogli ricambiabili e quindi eccomi qua devo ringraziare tantissimo una ragazza che ha fatto i refill che ci sono qua dentro che si chiama Rossella Autori e ha una pagina dedicata a tutte queste cose di agenda tutte queste tipologie di cose che lei fa che si chiama Rossella Pranner Addicted ma vi lascio qua sotto nell'info box il link alla sua pagina facebook così appunto potete andare a scoprire i suoi lavoretti a me lei piace tantissimo se vi piace l'idea vi farò poi un post sul blog in cui vi spiego come l'ho organizzata o eventualmente un video fatemi sapere la tipologia che vi piace di più e vi parlo di tutte le cose di cartoleria che sto utilizzando e che mi stanno aiutando nell'organizzare un po' la vita quotidiana poi andiamo avanti così magari non succede niente in questo video riusciamo a finirlo? chi lo sa l'altro prodotto di cui vi voglio parlare in fatto di make up invece è vabbè vedete questa palettina che io utilizzo molto che è la palettina di Puro Bio per inserire gli ombrettini singoli in refill che sono appunto questi qua io ho qua dentro sia degli ombrettini di Puro Bio che sono questo e questo mi sembra il 13 e il 15 se non sbaglio adesso controlliamo no non c'è scritto dietro comunque ve lo lascio scritto da qualche parte e poi ci sono degli ombrettini di Nabla che appunto vanno benissimo qua dentro in questa palettina io ho utilizzato più o meno tutti questi colori che vedete che sono appunto questi due qua di Puro Bio questo è lo Snowberry di Nabla Luna di Nabla Radical e questo è non me lo ricordo perché è di una collezione passata Desire devo essere sincera quello che ho usato di più di tutti è Radical questo color verde militare diciamo della nuova collezione che è uscita a Natale di cui appunto non vi ho mai fatto il post magari ve lo posso se vi può piacere vi posso fare qualche foto qualche cosa rispetto a questo tipo e poi ho utilizzato molto Luna come illuminante mi piacciono molto anche i due Puro Bio perché si abbinano bene al mio colorito hanno questi colorini autunnali che vi danno un po' di profondità all'occhio se vi interessa vi faccio magari poi qualche swatchino qualche cosa nel blog vi lascio qualche foto nel blog nel post che creo di questo video così avete idea di quali sono le colorazioni comunque questi sono stati gli ombretti che ho usato di più un po' caldi e poi questo per fare la sfumatura esterna e questo come ombrettino per illuminare l'angolo interno tra l'altro è il suono colorico anche oggi ma con questa luce non si noterà niente poi siamo a fine giornata quindi il trucco è andato un po' a farsi bene dire quindi questo è stato più o meno il trucco che ho utilizzato in questi mesi poi l'altro prodotto makeup che vi voglio mostrare è questo rossettino di Nabla che si chiama Closer ed è questo colorino qua nude, molto chiaro che vira al marroncino con una punta di pesca è molto molto bello io adesso non ce l'ho indosso perché l'ho messo nei giorni precedenti ma è un rossetto che da giorno mi piace tantissimo perché vi dà questa freschezza al volto come se vi fosse appena svegliati ma vi dà appunto questa luce questa idea di salute mi piace tantissimo e si chiama Closer vediamo se riesco a mostrarvelo anche qua anche se è molto difficile eccolo qua Closer non mi ricordo di che collezione ma non dell'ultima quella precedente mi sembra forse era quella estiva poi veniamo a un prodotto per la casa che vi ho già mostrato nei prodotti preferiti come detersivi per la cura della casa l'ammorbidente coccolino campanula e selvatica e bergamotto come profumazione una profumazione dolce allo stesso tempo fiorita che vi persiste nei vestiti per moltissimo tempo mi è piaciuto moltissimo ma se siete interessati a scoprire qualche informazione in più vi lascio il link nell'i che vedete qua in alto e nell'info box di questo video di cui ve ne ho parlato poi il prodotto fashion del mese anzi dei due mesi diciamo è stato questo un'intramontabile jeans parliamoci chiaro allora il jeans ci accompagna al lavoro alle feste veramente dalla mattina alla sera abbinato a scarpe da ginastica per il giorno o alle ballerine abbinato ad un tacco per la sera per una festa per una cerimonia tutto quello che volete cerimonia più o meno dipende un po' come si può rendere appunto anche molto formale con una giacca informale con una magliettina una via di mezzo si può fare un po' con tutto questo jeans mi piace molto perché è un taglio che a me piace scusate se è stropicciato mi perdonerete ma è quello che utilizzo di più è molto stretto al fondo ve l'avevo mostrato in un video haul di acquisti passato adesso non mi ricordo ma sicuramente di quest'autunno più o meno vi lascio comunque anche di questo il link qua sopra e nell'info box a questo video se siete interessati comunque è Trafalook Embrass Denim di Zara la linea vi lascio qui la cosa così riuscite a vederlo e questo Embrass è appunto la linea io ho preso appunto una taglia 36 e mi piace moltissimo è un 100% cotone iperelastico molto molto bello vi veste perfettamente il corpo è davvero stupendo ha qualche taglio lungo diciamo la la gamba scusate ma è molto stropicciato e questo l'ho pagato 39,90 ma è un denim che mi piace tantissimo e se riesco a trovare altre colorazioni della stessa linea le compro perché vi abbraccia proprio il corpo vi da proprio una bella vi lascia proprio belle diciamo mi piace molto vi veste molto bene ha un'ottima vestibilità poi io verrei agli ultimi prodotti che sono mangerecci super preferito di questo mese sono questi biscotti che ho comprato alla Lidl in una linea limitata che c'è stata qualche tempo fa e sono delle bio frolle al cacao con chinoa zucchero di canna e miele ed agricoltura biologica io spero di riuscire a mostrarvele e sono di altro mercato è una linea che non trovate spesso all'idolo io penso che sia diciamo una linea che mettono una volta ogni tanto in cui ci sono diversi prodotti c'era questo c'era la cioccolata calda sempre di altro mercato quella solubile da aggiungere in cui si aggiunge acqua latte in questo senso qua questi biscotti c'era lo zucchero di canna c'erano un sacco di prodotti io ho preso questo e la cioccolata la cioccolata non l'ho mai provata in questo periodo perché comunque ha fatto caldo non ne sentivo la voglia invece questi biscotti mi sono piaciuti tantissimo perché sono al cacao quindi un gusto che a me piace tantissimo sono molto croccanti sentite proprio sotto i denti questo senso di croccantezza non si percepisce tantissimo il miele perché è dolce ma non esageratamente dolce rimane molto delicato è un biscotto che si può mangiare benissimo a colazione ma anche come spuntino io me li portavo dietro in borsetta così e poi c'è questa cosa della quinoa che ovviamente non si sente proprio il gusto di quinoa come mangiare un piatto di quinoa normalmente però ha questa croccantezza data secondo me dal zucchero di canna e dalla quinoa che veramente è buonissimo a me sono piaciuti tantissimo e sicuramente li riacquisterò hanno un prezzo un pochettino più alto del normale però rispetto al fatto che sono di altro mercato è un prezzo molto più basso che comprano appunto in negozio bio perché li ho pagati circa 1,40 euro 1,70 euro adesso non mi ricordo per 260 grammi e sono 23 biscotti mi sono piaciutissimo se li ritrovo magari vi lascio un messaggino sulla pagina facebook o su instagram per dirvi guardate che sono ritornati ma sicuramente li rivedremo nei prossimi mesi poi l'altro prodotto del mese tra l'altro che profumo ragazze mamma mia è un pompelmo facevo tantissime facevo nel senso che ormai ne farò più poche perché ormai gli aranci non si troveranno quasi più non saranno più granché buoni penso ancora una decina di giorni poi spariranno facevo una bella spremuta al mattino o per merenda di arance e pompelmi buonissimo tra l'altro vi ho lasciato qualche foto nella pagina facebook o in instagram in cui vi mostravo appunto diciamo la carica diciamo mattutina in questi giorni per andare a lavorare a questa buonissima spremuta in cui non aggiungo né zucchero né nient'altro perché è buonissima così il pompelmo vi lascia questo retroamaro mischiato con il dolce dell'arancio secondo me è buonissimo poi se mettete dell'arancio e tarocco che sono molto dolci in questo periodo si abbinano molto bene e non c'è necessità di aggiungere lo zucchero poi veniamo a un altro prodotto è questo qua questo succo di mela che ho acquistato in Trentino nell'ultimo viaggio che abbiamo fatto e ci è piaciuto tantissimo l'abbiamo acquistato nella zona di Merano in uno dei negozi diciamo per alimentari e questo è il succo di mela Bergap Felfaft anche se io non so non so il tedesco scusatemi comunque succo di mela di produzione controllata giallo d'oro torbido naturale e gustoso fatto così ci è piaciuto tantissimo abbiamo bevuto tutto io lo bevevo volentieri alla sera caldo ne scaldavo mezzo bicchiere lo sorseggiavo davanti alla tv e vi scalda molto se avete freddo la sera visto che in questo periodo è ancora un po' ballerino il tempo e tra l'altro fa molto bene quindi se andate dalle porte del Trentino compratelo perché è buonissimo se siete amanti ovviamente del succo di mela ecco mi piace tantissimo un'altra chicca dell'Idol è questa farina di farro che a me è piaciuta tantissimo per fare i muffin li ho fatti sia al cacao sia bianchi con le gocce di cioccolato e sia con le mele tra l'altro se siete interessati a qualche ricettina di muffin vi farò qualche cosa fatemelo sapere perché mi diverto molto a fare i muffin perché trovo che siano un ottimo compromesso per colazione e per merenda perché sono piccolini ve li potete portare dappertutto sono molto golosi ma appunto se cucinati nel giusto modo non sono neanche troppo grassi e io ci utilizzavo spesso questa farina di farro che è appunto apposta per i dolci di questa linea della Ligo che ogni tanto trovate questa è proprio la linea indicata per i dolci da agricoltura biologica mi è piaciuta tantissimo e ve la consiglio perché è una farina molto leggera che si presta bene ai dolci per chi non ama le farine pesanti tipo la farina di frumento ultimo cibo un po' goloso diciamo è questo riso soffiato che mangio spesso con l'orzo la mattina questa è un'altra goloseria che ho mangiato in questi due mesi poi vi volevo ancora dire due cose allora questo mese di skin care non avete visto niente perché sono ancora un po' pigra e sto soprattutto smaltendo molti prodotti diciamo acquistati in passato che non sono magari tutti completamente bio oppure delle creme bio che però hanno un pao che è quasi scaduto quindi voglio completarle quindi farò un video unico di skin care o di prodotti finiti di skin care fra qualche tempo così che possiate capirci di più rispetto a quello che sto usando per quello che non ve li metto nei prodotti preferiti però vi voglio far sapere due cose allora come programmi tv preferiti di questi ultimi due mesi allora ho ripreso a guardare a un passo dal cielo un po' sul computer un po' sulla televisione quando danno le puntate è una serie tv che mi piace tantissimo ambientata in Trentino io adoro il Trentino sono innamorata del Trentino quindi ogni volta fa vedere questi paesaggi di San Candido tutte queste zone che non vedo l'ora di andare a visitare e spero prima o poi di riuscire ad andarci soprattutto nel periodo caldo che mi piace tantissimo vi consiglio di andarlo a vedere se vi piacciono le serie tv telefilm queste cose qua un po' commedie sapete che a me piace questo genere ve lo consiglio tanto le trovate appunto le puntate sul sito della Rai potete recuperarle e poi ho guardato molto spesso le Iene scusate guardo nel mio foglietto perché se no non mi ricordo niente ho guardato spesso le Iene perché le fanno due volte a settimana le puntate mi sembra domenica e mercoledì a volte le vedo in replica gli altri giorni e poi un programma che per me è nuovo però mi piace tantissimo creato sempre da una Iena diciamo un'ex Iena da Lucci o Luzzi non mi ricordo Lucci dovrebbe essere Enrico Lucci Nemo il programma è Nemo ed è un altro programma appunto che fa delle diciamo delle critiche fa dei servizi televisivi su delle cose che non funzionano in Italia su diciamo delle situazioni che gli vengono denunciate e mi piace tantissimo perché ha sia questa diciamo vena molto critica ma allo stesso tempo ironica ripresa dalle Iene però è molto spesso e pungente fa delle diciamo delle denunce su delle cose che non conosciamo anche non solo italiane e quindi mi piace tantissimo se vi fa piacere vi invito a andarlo a vedere mi sembra che sia un programma che fanno il martedì però io sono molto sfasata con i giorni molto spesso vedo queste cose anche non nei giorni prestabiliti le rivedo diciamo al computer quindi non vi so dire però vi lascio tutte le informazioni o nell'info box o comunque nel link al blog che vi allego a questo video sempre nell'info box evento del mese preciso preciso non c'è un evento ma tutta una serie di eventi a cui ho partecipato per la formazione professionale che appunto mi servono per continuare a tenermi in formazione continua che mi hanno diciamo dato un sacco di carica per continuare nel mio lavoro che magari un giorno di questo vi parlerò ma solo se siete interessati non voglio annoiarti di più e poi il canale che ho seguito maggiormente si riconferma di nuovo un vecchio canale di cui vi avevo già parlato mi sembra nel mese di luglio è Annelisa Superstar una ragazza che seguo da diverso tempo che tratta diciamo più o meno le tematiche che tratto io quindi beauty video della casa video di moda un po' quant'altro tutto ciò che piace a noi donne e a me piace tantissimo perché lei è ironica molto incisiva nei suoi video ha sempre delle idee nuove delle idee innovative quindi vi consiglio di andarla a vedere un bacione detto questo ci rivediamo mi spiace se la luce non è buona se il luogo in cui mi vedete la location non è proprio delle migliori ma è l'unico posto che mi dava un po' di luce dalla finestra quindi eccoci qua niente spero che il video vi sia piaciuto scusate la lunghezza ma avevo un po' di cose da dirvi spero che questa rubrica vi piaccia nel caso mettete qualche pollice in su se non vi piace vi aspetto nei commenti per sapere che cosa non vi piace perché si può sempre migliorare e noi ci vediamo nel prossimo video ciao ragazze